Mi hanno ordinato di pentirmi, ma io non so di che pentirmi e non voglio pentirmi. La chiesa non è pronta per questo. Vi ho fatto convocare in segreto per indagare su certi dipinti che offendono le rappresentazioni sacre nelle nostre chiese romane. Caravaggio è un pittore eccenso. Quattro anni fa si è macchiato di un grave delitto, uccise un uomo. Che ti preme di tanti cristi in croce? Che vorrei fissarmi lì qui? Amava dipingere il vero. Benetrici, briganti. Il dolore dell'umanità. Non posso, mi aspetto. Non so io che lo aspettavo. I miserabili. Sarò anche una povera puttana, ma sono diventata la madre di Dio. Tu e voi tutti dell'accademia intera, non avete occhi per vedere qualche ritratto? Ma io non vi sfido. Non vi vedo! Solo un uomo tormentato come Michele poteva creare questo capolavoro. Caravaggio è un pittore meraviglioso. E' la sua vita che è sporca. La verità è solo quella riportata nelle sacre scritture. Ne siete consapevoli! Cosa volete? La rinuncia alla vostra arte. La mia vita è la pittura. Se me la togliete, mi togliete la vita. La mia vita è la pittura.